Sono già fuso ragazzi Ragazzi come promesso Anzi ragazzi, ragazze, ragazzu Come promesso siamo davanti alla reaction della quarta coppia Raul e Martina Chissà cosa ci sarà da aspettarsi su di loro Sono Martino, ho 26 anni e vengo da Roma E sono fidanzata con Raul da 10 mesi Oh adoro Allora lasciatemi passare il termine I burini di Roma ci volevano Ogni volta ci deve essere una coppia Che secondo me ci farà molto ridere Già da questa prima mia impressione Lo so, luoghi comuni a tutto fa Però già il suo Leopardè Promette tanto trash Scrivo io a Temptation Island Perché lui per me è geloso e possessivo Ecco alla, scopriremo che lei non potrà uscire di casa Ma lui potrà fare al tempo stesso tutto quello che vuole con i suoi amici E chissà altro Fatemi vedere perché mi sembra che assomiglino Tipo alla brutta copia di Sofì Codegoni Con l'altro Di cui ora non mi ricordo il nome Ma ho uguali Tant'è vero che già due anni fa ci siamo lasciati per questo motivo Basciano I Bascianoni Insomma quella coppia lì Ma due anni fa si sono già lasciati per questo motivo E nonostante quello Lei è tornata da lui Quindi qualche cosa di nascosto Questo bello prorompente dovrebbe avercelo questo uomo Ma fatecelo sentire Cosa ha da dire lui Mi chiede di andare a convivere Ma io Tenten non riesco a dare una risposta Perché per me questa gelosia può condizionare la mia libertà Allora che strano Lui è troppo geloso secondo lei Ma al tempo stesso vuole andare a convivere Vorrebbe andare a convivere per controllarla meglio Questo è il dubbio a quanto pare che lei ha E per quello che Tenten non ci vuole andare ancora E quindi penso che abbia voluto andare a Temptation Island per vedere Mi posso fidare? Posso trovare altro? Chissà Ma ho visto che stava parlando lui Vediamo che ha da dire Il nostro problema che è la mia gelosia Non è in realtà così grave Non mi ritengo neanche una persona possessiva Ok ditemi dove sta leggendo Ma Non ti reputi una persona possessiva Sicuramente non la farà mai uscire No Lui scavalcherà Farà tipo Ciro Farà lo slalom tra i cameraman Il secondo giorno Forse Massimo Vedrà che lei magari si farà mettere la crema da qualcuno E impazzirà Sicuro Sono semplicemente tanto innamorato E sicuramente ho voglia di passare il più tempo possibile con lei Vabbè per il momento carino Vuole passare il più tempo possibile con lei Bisogna vedere se tutto questo tempo con lei Madonna Oddio ora 24 ore su 24 ragazzi No Poi ci si annoia eh Un po' di libertà Ognuno ci deve avere anche le proprie amicizie Le proprie cose Io capisco l'amore Capisco tutto Però con karma Aspetta Forse ho capito Lei si sente soffocata Credo che la convivenza ci aiuti invece Temptation Island Ok lui vuole la convivenza Lei invece dice Boh metti caso che poi si va a convive Non sono più libera Quindi Lei non ha parlato appunto che lui le vieta di fare qualsiasi cosa Secondo me ci sono arrivato Vedendo questa clip Secondo me Lui è uno di quelli che all'apparenza sembra un duro Ma in realtà è tipo un cucciolone Super affettuoso Super appiccicoso E dall'altra parte Tutto questo appiccicume Può in qualche modo soffocare l'altra persona Perché ok Ti amo Ok sto bene insieme a te Però A un certo punto Smolla Un attimo Ho bisogno anch'io di stare una sera da sola Ho bisogno anch'io magari una sera di non vederti Perché voglio parlare con le mie amiche Voglio fare la spesa banalmente da solo Da sola Scusa Però Al momento di roba tossica Proprio come siamo abituati Non c'è Ok c'è la red flag Che lei dice che lui è troppo Possessivo Però non ha raccontato di più Non ha ancora detto Mi rinchiude in casa Non posso fare nulla Quindi aspettiamo anche in questo caso Loro Cosa faranno Ma Loro mi danno good vibes Spero un po' In qualche trash In qualche cosa di trash Questa coppia Mi dà molte vibrazioni positive E me ne dà così tante Che secondo me Loro 100% Usciranno insieme ragazzi A meno che non succeda qualcosa di Boh Straordinariamente Scioccante Loro Usciranno insieme E finalmente Andranno a convivere Lei si metterà All'anima in pace E dirà Vabbè Devo andare in carcere Capita a tutti Ok Conviverò E quindi Nell'ultima puntata Un mese dopo Ci daranno Questa notizia Ci faranno vedere Le chiavi di casa Siamo andati a convivere Secondo me Succederà questo O almeno Glielo auguro Bisogna soltanto Vedere Analizzare Quanto lui Sia celoso Quanto lui Sia possessivo Se è una possessione Di quelle Rete Fleghissime O se è Semplicemente Boh Un bonaccione Appiccicoso Insomma Una cozza Bisogna vedere In tutti e due i modi Non va bene Perché uno viene a noia L'altro fa paura Bisogna Un attimino Indagare E indagheremo Durante la prima puntata Fatto sta A regola Ne dovrebbero mancare due Adesso siamo Alla quarta coppia Dovrebbe mancare La quinta E la sesta Chissà Se anche quest'anno Ci sarà un bonus E ci sarà anche Una settima coppia Lo scopriremo Comunque in questi giorni Detto questo Adesso tocca a voi Ditemi Fatemi sapere Qua sotto Tra il commento Cosa ne pensate Anche di questa quarta coppia Se avete le mie stesse vibes Se la vedete In modo diverso E soprattutto Fatemi sapere Secondo voi Come finirà Questa coppia Se staranno insieme Se si lasceranno Se succederà Qualcosa di Di straordinario Navighiamo un po' Con la mente Prima di poter vedere Con mano Le puntate Anyway Per oggi È veramente tutto Chissà Io ho un hype a mille Per questa edizione Perché le coppie Mi piacciono Per il momento Vi ho già detto Nel video di oggi Recuperatevelo La terza coppia Qua sotto Nell'infobox Che mi sembrano Tutte Molto artefatte Molto Pronte Per diventare Pseudo Influencer Però Al tempo stesso Sono molto Ben amalgamate Mi piacciono Hanno delle belle storie E Mi danno delle vibes Di super trash Di cui noi Abbiamo bisogno A questo punto Anyway Per oggi è tutto Mettete mi piace A questo video Se vi è piaciuto Iscrivetevi al mio canale Mi raccomando E attivate la campanella Per non perdervi Nemmeno un aggiornamento Noi ci vediamo domani Con il prossimo video Ciao Wow